La curva dei contagi continua a diminuire, si guarda con sempre più ottimismo alla fase 2. Le persone che hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria per Covid-19 ieri sono state 528 in meno, mentre il numero dei guariti non è mai stato così alto, 2723. Il numero delle vittime rimane ancora alto e questa mattina segna anche un altro camice bianco morto sul campo, il 143esimo dall'inizio dell'epidemia. Ancora poche ore e saranno operativi i primi 150.000 test sierologici che insieme alla app di tracciabilità e ai tamponi saranno uno strumento fondamentale per ripartire. Ieri il Premier Giuseppe Conte al Senato ha parlato di 50 miliardi per sostenere la ricostruzione e messo subito in chiaro il primo punto del piano del Governo. Mantenere e far rispettare a tutti i livelli le misure per il distanziamento sociale, promuovere l'utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili una specifica terapia e un vaccino. Misure omogenee e progressive per tutto il Paese senza distinzioni tra regioni. La data che metterà fine al lockdown è il 4 maggio. Forse potrà essere anticipato solo per qualche azienda che si occupa di export. Passeggiate sì, ma solo in due. Sui mezzi pubblici e in aereo saranno ancora vietati assembramenti e in spiaggia probabilmente si potrà entrare solo fino a esaurimento posti.